Falegnameria Paludetto, da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Mr. Paolo Vanolli, innanzitutto come si recuperano in pochi giorni le energie psicofisiche dopo una partita e ne avete pochi giorni dopo un'altra? Il risultato positivo sicuramente in questo ti aiuta, sapendo anche che abbiamo la fortuna, che siamo a un punto dal como, quindi le motivazioni sono salite, però dobbiamo sapere che noi abbiamo una speranza sola, quella di provare a vincere tutte e tre le partite, quindi è inutile guardare le altre due, dobbiamo guardare il Catanzaro e cercare di fare il massimo per portare a casa questi tre punti, importanti per quello che è un traguardo, un sogno che oggi, piano piano, con la vittoria della Cremonese è diventato quella più forte. Come si affronta una squadra come il Catanzaro di questo girone di ritorno? Ma è una squadra che sappiamo la loro forza, una squadra che gioca a calcio, predilige tenere sempre la palla, è una squadra che in casa ha un valore aggiunto che è il pubblico, quest'anno stanno facendo una grandissima stagione con un attore molto bravo, preparato, che ha vinto parecchi campionati, si vede, ma come ho detto noi oggi siamo al Venezia, siamo un gruppo forte, un gruppo che ha in mano un sogno, siamo stati bravi sia noi e il Como ad arrivare a queste ultime tre partite e giocarci qualcosa di importante, quindi dobbiamo essere concentrati e riuscire a tutti i costi a portare a casa questi tre punti. Parlando dei singoli, sempre del Catanzaro, quali sono le punte di diamante e quali sono gli aspetti del gioco a cui dovrete stare maggiormente attenti? L'ho detto, quando una squadra gioca bene a calcio i punti forti è il collettivo, poi dopo nel collettivo giustamente c'è la qualità dell'individuale, ma che viene espressa dal collettivo. Io penso che però il giocatore che fa girare tanto questa squadra qua è IML, un attaccante che è capace di abbassarsi tanto, creare superiorità in America in mezzo al campo, è capace, ha visione di gioco, ha una tecnica sopraffina ed è un leader, è un giocatore di personalità. Ma sicuramente dopo c'è tutto il contesto che ruota intorno a questo giocatore. Per quanto riguarda il Venezia, sempre, a parte Candela che non sarà della partita perché è squalificato, ad oggi qual è la situazione? Modulo lo recuperiamo per la prossima partita, ha fatto la corsa quindi sta bene, però con questa partita non riusciamo ancora a portarlo con noi. E Candela perché è squalificato, tutti gli altri stanno bene. Sicuramente ci sarà un'atmosfera infuocata in quella di Catanzaro, però dicevi siete più che mai intenzionati ad avere tutti e tre i punti, cosa che non sarà assolutamente facile. Assolutamente, abbiamo visto che in questo cammino niente è facile, soprattutto in Serie B, perché la Serie B è la bellezza di questo campionato che ti dà sempre l'opportunità e le motivazioni per raggiungere qualche cosa, quindi c'è la squadra che si deve salvare, quella che deve evitare i play-out, quella che è vicino ai play-off, quella come noi che sta lottando per il secondo posto e quindi in Serie B il bello è che le partite sono tutti difficili perché ti danno l'opportunità di raggiungere qualche cosa. E quindi su questo siamo stati bravissimi contro la Cremonese, la vittoria contro la Cremonese, oltre che a darci l'opportunità di essere ancora in corso per questo sogno, ci ha dato anche l'opportunità di conquistare meglio in caso di play-off il terzo posto, quindi è importante anche questo. Cioè dobbiamo stare attenti a tutto, però oggi il grande sogno è lì davanti a noi, e noi fino alla fine, come ho sempre detto, di partita in partita dobbiamo guardare solo quell'obiettivo. Giunti a questo punto del campionato, come dicevi, c'è da curare i dettagli. Anche questa cosa non da poco. Quali dettagli in particolare dovrete stare attenti? Adesso una squadra quando deve crescere, giustamente deve sapere interpretare meglio la partita. Per diritto contro la Cremonese, soprattutto al primo tempo, sapevamo che incontravamo una squadra molto aggressiva, quindi quando incontri una squadra molto aggressiva che ti gioca uomo su uomo, giustamente anche il giocatore stesso deve avere l'abilità tecnica di sapere superare anche il diretto avversario, perché se no l'unico giocatore libero sarebbe il portiere. E quindi dobbiamo essere bravi, quindi curare il dettaglio sui movimenti, sulla continuità e su andare a ricercare spazi nuovi, ma soprattutto anche l'accuratezza del passaggio sul piede forte, il piede debole. Questo cambiano tanto e quindi quando gli dico ai giocatori che adesso siamo arrivati i dettagli, questi fanno una differenza.